In questa conversazione esamineremo sempre sul lato amministrativo i principali problemi del contenuto, della causa e della forma. Sono aspetti tecnici importanti, anche se piuttosto aridi, ma in realtà l'esame di questi pezzi del motore amministrativo fa vedere anche dei punti interessanti che legano assieme questi pezzi con tutto il sistema amministrativo. Iniziamo dal contenuto. Il contenuto è l'oggetto della dichiarazione di volontà e deve essere preciso e determinato. Vi è qui una simmetria tra il contenuto del contratto e il contenuto dell'atto amministrativo e per quanto riguarda il contratto, l'articolo 1346 del Codice Civile stabilisce che il contenuto deve essere lecito, possibile, determinato e determinabile. C'è un problema particolare qua che si collega al contenuto del contenuto, che è derivato dalle leggi recenti. L'articolo 6,4 della legge 241 del 1990 ha stabilito che in ogni atto che è notificato al destinatario deve essere indicato il termine di una norma importante ed è sorta il problema se questa previsione del contenuto costituisca un elemento essenziale. Una attenta e ancora giovane dottrina, l'Avvocato Roncarolo, ha risposto di no, affermando che la conseguenza di questa omissione potrebbe eventualmente essere la remissione in termini e quindi non la mancanza di un elemento essenziale. La tesi è interessante, degna di attenzione, ma volendoci ragionare sopra noi vediamo che la lettera della norma prevede in ogni atto notificato con una formula che è simile a quella del comma 1 dell'articolo 3. Ogni provvedimento amministrativo deve essere modificato. Quindi su questo punto ci possiamo svolgere ancora una riflessione, ma i punti essenziali sono quelli indicati. Delicato è il secondo elemento essenziale che anch'esso trae derivazione dal contratto di diritto privato che viene nel codice civile. La causa. La causa è lo scopo tipico, costante, previsto per la realizzazione di un pubblico interesse che la legge stabilisce per quel determinato atto. La causa esprime anche la legittimità dell'atto, perché come si è visto l'atto amministrativo deve perseguire i fini determinati dalla legge. Attenzione, la causa è tipica e costante per gli atti della stessa categoria, non deve essere confusa con i motivi che sono variabili. Facciamo un esempio. Espropriazione di un bene. La causa è rappresentata dal trasferimento della proprietà dal privato alla pubblica amministrazione per l'esecuzione di opere di pubblica utilità. I motivi dell'espropriazione possono essere vari, costruzione di strade, di ponti, eccetera. Quindi bisogna tenere distinte queste due ipotesi. La mancanza totale o parziale della causa determina quel particolare vizio del lato amministrativo che va sotto il nome di eccesso di potere. Secondo altra giurisprudenza, la mancanza della causa determina l'annullità dell'atto amministrativo e non l'annullabilità. In ogni modo ci troviamo di fronte ad un vizio, cioè ad una mancanza, che determina una serie di conseguenze. Altro aspetto su cui si deve svolgere qualche breve riflessione è la forma. La forma dell'atto amministrativo. Facciamo una breve premessa. Spesso vi sono studiosi o anche amministratori che hanno svolto delle forti critiche nei confronti della forma. Si è detto che, specie nell'ambito della pubblica amministrazione, si bada soltanto agli aspetti formali, al formalismo, alla burocrazia e quindi non si è bene fermata l'attenzione sopra la sostanza e si è basato soltanto sulla forma. Mentre invece, secondo alcuni, bisognerebbe valorizzare lo spirito che vivifica. Queste tesi di critica alla forma e ad alcuni aspetti necessariamente formali del diritto amministrativo non sono giustificate, perché la forma è un elemento necessario che si lega alla dichiarazione e deve esprimersi attraverso una determinata veste giuridica. Non è persuasiva la tesi che la forma sia qualcosa di evanescente che può essere bypassata o addirittura negletta. La forma in molti casi è sostanza. E tant'è vero che sono le singole leggi che stabiliscono questa forma, prescrivendo ad esempio che determinati atti devono avere forma scritta. Se un atto non ha forma scritta l'atto non c'è, è inesistente o meglio è nullo. Le leggi stabiliscono che per certi atti amministrativi, ad esempio ordini di polizia, è possibile la forma orale. Sempre le leggi prevedono che vi sono alcuni atti amministrativi che sono espressi in forma simbolica, cioè mediante segnali. Pensiamo ad esempio alle segnalazioni relative al traffico stradale effettuate dagli agenti addetti al traffico con certi gesti o manifestate addirittura attraverso apparecchi luminosi automatici da luci colorate, ciascuna delle quali ha un significato. verde possibilità di attraversare la strada, giallo fermarsi, rosso divieto. Aggiungo che tutto questo, l'aspetto formale, direi è innervato su tutto l'atto amministrativo, su tutti gli atti amministrativi, perché la forma si riferisce anche al tipo di atto. Esempio decreto del capo dello Stato o di altre autorità, oppure parere di un organo consultivo, verbale della dichiarazione di un collegio. Insomma, la forma qui diventa un elemento necessario. C'è poi una legge che stabilisce che determinati regolamenti debbano avere proprio la denominazione regolamento per evitare che si faccia confusione con altri atti. È un elemento di chiarezza la forma. Aggiungo che la forma scritta si esprime anche nella sottoscrizione, la firma dell'atto stesso. Sottoscrizione che anche se è poco leggibile, deve in ogni caso consentire di individuare la provenienza dell'ufficio o dell'organo che ha emanato l'atto. Questo indipendentemente dalla leggibilità della firma. In certi casi questo elemento formale viene rafforzato perché la firma deve essere autenticata. Questo per evitare che si possano fare degli imbrogli o altro. E quindi la firma, in certi casi, vi deve essere un'autorità che stabilisce che quella firma è proprio di quella persona. E si è stabilito da parte del Consiglio di Stato, per esempio, che l'autenticazione della firma del candidato alle elezioni amministrative è nulla, addirittura se non è stato apposto il timbro e se mancano l'indicazione del luogo e della data della sottoscrizione del pubblico ufficiale. Quindi questa autenticazione di firma è gravata da questi ulteriori elementi formali, addirittura il timbro, il luogo, la data, eccetera. Tutto questo non per complicare le cose, ma perché si sono voluti attraverso questi accorgimenti necessari e formali impedire che si possano fare dei brogli, anche perché molte volte l'autenticazione della firma viene fatta in riferimento ai problemi così importanti delle elezioni. E quindi mi sono stati dei casi in cui si è affermato, si è chiesto se i consiglieri provinciali potevano autenticare le firme per le elezioni amministrative, anche in riferimento ai comuni che ricadevano nel territorio della provincia. Il problema è stato sollevato davanti al Consiglio di Stato che ha risposto di sì. Tutto questo però, per concludere questi aspetti formali, si vede come la forma non è un elemento decorativo, non è un elemento inutile, sarà un elemento tecnico, se volete anche noioso, però è un elemento necessario e molto importante nell'ambito della vita amministrativa. Grazie. 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 Grazie.